Visto che mio cugino non voleva far sentire la sua voce, ho doppiato alcune parti, quindi se sentite l'audio è diverso, ecco. Ma adesso si parte col video. Grazie, benvenuti. Oggi spacchettamento di figurine e dell'album e delle carte. Iniziamo a spacchettare. Vai, spacchetta tu. Con più calma, magari. Ah, eccoci qua. Sono cinque pacchetti delle figurine. Andiamo con il primo. Ok, ragazzi. Iniziamo con... Ecco, la 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 mediamo dopo. Allora, ragazzi, ecco il primo pacchetto con la maglia del Portogallo, poi le squadre del girone C e D. Poi McTominay, due scudetti del Portogallo e della Svizzera, non so come si pronuncia. Poi abbiamo un'altra figurina che è Souljack e adesso mi pare quella, quella, non so, quella più rara, che è la maglia del San Marino. Andiamo avanti col prossimo pacchetto. Andiamo avanti con... Vediamo un po'. La prima figurina è Zinchenko. Andiamo a vedere gli altri. Adesso abbiamo Garrett Bale. Andiamo avanti con Daily Coiling. Adesso vediamo Kramaric. E ancora altri pacchetti. Andiamo avanti. Ok, andiamo avanti con Katie Bare. Adesso andiamo avanti con Marcio Viera. Andiamo avanti con Ian O'Black. E adesso abbiamo anche la maglia del Galles. Andiamo avanti con altri tre pacchetti. Forse almeno ho l'album della Svizzera. Iniziamo questo altro pacchetto con la maglia dell'Azerbegiano. Ecco, adesso aiutate i miei commenti perché non so come si può... Adesso Raffaele Guerrero. Adesso la maglia della Repubblica cieca. E adesso il grande Giorgio Chiellini. Spengo l'entusiasmo dicendo che non do più una. Adesso Bernardo Silva con la Nations League. Adesso Miralem Piani. Nell'audio originale non riusciva neanche a riconoscerlo... Cioè, pronunciarlo mio cugino. Aiutateci nei commenti. Allora, andiamo avanti. Penultimo pacchetto. Allora, iniziamo subito con la maglia del... Con la maglia dell'Andorra. Ma adesso andiamo avanti ancora con la maglia del... La maglia della Giorgia. Ma Giorgia non la conosciamo! Ecco la maglia delle isole Farower. Adesso Mkhitaryan. Fortissimo! Adesso la maglia del Cipro insieme a Barsegian. E adesso finiamo con Olsen. Iniziamo l'ultimo pacchetto con la maglia del Belgio, della Slovenia... E poi la maglia dell'Armenia. E poi Isak. Adesso mi pare un'esultanza della Spagna. Non so bene che cose. E adesso abbiamo Gulas... Non riesco a pronunciare. Adesso Buschel insieme alla maglia dell'Islanda. Allora, andiamo ad aprire l'album delle figurine... No, delle carte. E niente, le carte che puoi trovare pure... Quella che costa 8,99€ come ci mostra mio cugino... E puoi trovare anche quelle firmate. Che bello! Il rigolo è accaduto. Il mio cugino, il mio compare... Ha toccato la lampada che sta qua sul comodino del letto di mia anzia. Perché siamo al casa di mia nonna. E allora praticamente si è bruciato la mano. Non ho capito perché l'ha fatto. Forse un coglione non ho ancora capito perché... Però è andata così. Allora, come vedete, qui dentro abbiamo... Un po' di cose. Abbiamo qualche pacchetto. Due carte. Che modemmo a vedere come funziona. Perché ha zoomato? Non lo so. Quindi, aspettiamo bene. Qua sono altre pacchette. Ho speso 9€! Allora, andiamo ad uscire. Cosa c'è all'interno? Iniziamo dal... Vediamo un attimo. Dal libretto. Che spiega tutto quanto... Come si gioca, ma a noi non ci interessa. Ah, che cazzo fa? Vabbè. Andiamo adesso a prendere cosa ci esce. Adesso. I pacchetti insieme alle... Oh, sono pesanti questi cazzo di pacchetti. Adesso usciamo l'album. Bianco. Cazzo quella roba non lo so. Andiamo a vedere. Ah, ma forse si mettono questi avanti e dietro. Bisogna montarlo proprio così. Va bene. Andiamo a vedere le carte iniziali. Che lini! Che lini Holland! Che lini Holland! No! Bellissimo! Limited edition, ragazzi! Limited edition! Pacchetti pesanti questi, oh! Trovare questa... Una firmata. Non so... Quella... La prima che ci capita, però, firmata. Andiamo avanti. Dai, muoviti. Oh, non me lo aprire così che me lo muovi. Che poi me lo devo conservare. Va bene, fa niente. Mmm. Ed Ciron. Ah, vedi che stanno dietro in giocato. Guarda che figa! Ok, Bernardo Silva e Tiago Alcantara. Le prime di questo pacchetto. Chesney! Addio! Allora, abbiamo Sanchez e poi... Non mi ricordo come... Sì, mi cassa. Finalmente un italiano con Domenico Berardi. Ma finalmente! Ora abbiamo Dallas International Stars. Adesso abbiamo... Biascions. Eeeh! Errime è qua! No! Zio! Zio, chi mi hai trovato? Io adesso a Closter, ma dopo una... Felicità. Ok, possiamo andare avanti. L'hai visto il video, quello del mare, di tanto tempo fa? No. Dai, dai, vediamo queste carte qua. Allora, quella è una carta in... Le prime due sono Shakiri e... Andiamo... Barsebian. Ora abbiamo Isai, Orban, Keleman e Rata. Uno dietro l'altro. Ah, Perisic. Adesso Inderegd, Inderegger. E adesso Grilisic. Sì, Grilisic. Sì, bucazza. E poi... E poi Robert. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, un mi piace. E niente. Che vedete così. Ci vediamo al prossimo video.